Letteratura, pensiero, idee di altro genere. Nasce a Lucca il primo festival letterario dedicato alla scrittura femminile, che si terrà a Palazzo Ducale l'1 e il 2 marzo. Una a due giorni di incontri, laboratori e eventi, rivolte alle nuove generazioni, ma non solo, con l'obiettivo di approfondire, da un lato, l'importanza delle parole, dall'altro, il peso delle donne nella scienza e nella cultura. Abbiamo deciso di concentrarci su temi che fossero di grande attualità e che non fossero soltanto un parlare da sole tra di noi, ma fossero proprio un esporre dei punti di vista sviluppati nel tempo, anche dalle accademiche, quindi non soltanto da saperi più antichi e sedimentati, ma proprio anche dal mondo accademico. queste competenze sviluppate dalle donne e per appunto proporle come nuovo punto di vista anche per la società e per farle accogliere alla società tutta. Una rassegna frutto di un lavoro di sinergia tra la provincia, la regione, l'associazione Nati per Leggere e Biblio Lucca, la rete provinciale delle biblioteche, che per l'intero mese di marzo dedicheranno appositi spazi e iniziative ai libri sulla letteratura di genere. Grazie Grazie